L'uso del drone nello studio del territorio e delle aree in frana di Paolo Guarino e Roberto Serafini. Dal giugno 2017 il drone è diventato un importante strumento di lavoro del servizio Joab nello studio delle aree in frana del territorio. L'uso del drone permette di superare gli impedimenti legati alla presenza di ostacoli e volando a bassa quota si ottengono immagini ad alta risoluzione da diverse angolazioni che consentono l'elaborazione di modelli del territorio. L'utilizzo del drone richiede un'adeguata formazione. Anche i droni più piccoli possono risultare pericolosi se non vengono utilizzati con attenzione e non si rispettano le norme del regolamento EMAC. Esistono droni ad alafista e droni multirotori. Joab utilizza tre quadricotteri. Per guidare un drone è necessario seguire un addestramento teorico pratico e conseguire un attestato di pilota drone. Al momento Joab può realizzare operazioni specializzate non critiche relativamente alle quali l'ISPRA è registrata in un apposito registro EMAC. Le operazioni non critiche non prevedono il solvolo, nemmeno in caso di malfunzionamento e di avaria, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili. Le operazioni devono essere condotte in contatto visivo con l'aeromobile entro un volume di spazio aereo massimo avente raggio di 500 metri e altezza di 150 metri e il drone deve essere coperto da una specifica polizza assicurativa. Le fasi di lavoro con il drone comprendono una fase di pianificazione, l'esecuzione del volo e l'elaborazione dei dati. L'esecuzione di un rievo con il drone deve essere adeguatamente pianificata. Occorre effettuare un sopralluogo preliminare finalizzato all'analisi dei rischi. Ad esempio, nell'area interessata non devono essere presenti infrastrutture sensibili e assembramenti di persone. Occorre poi verificare se esistono limitazioni ENAC legate, ad esempio, all'avvicinanza di aeroporti. Prima del volo vanno posizionato sul terreno dei target. La loro posizione deve essere accuratamente determinata mediante GPS. Il drone può effettuare un volo libero, scattando foto o filmati, oppure può seguire un determinato piano di volo predisposto utilizzando specifiche app. Nel corso del piano di volo, il drone scatterà una sequenza di foto a intervalli fissi di tempo. La fase conclusiva è l'elaborazione delle immagini. Vengono utilizzati software specifici in grado di ottenere a partire dalla foto nuvole di punti e modelli 3D. Il processamento successivo consente l'elaborazione di Digital Elevation Model del soggetto. Nel maggio 2018, grazie al rilievo effettuato con il drone, si è stato in grado di definire, in pochi giorni, l'entità e l'estensione della frana che aveva interrotto il sentiro E4 e che conduce alla cascata dell'Acqua Santa. La ripetizione del volo nel dicembre 2018 ha permesso di verificare l'entità degli spostamenti e l'ampliamento successivo del fenomeno. Lungo il sentiero del Grande Anello dei Monti Sibilini, il rilievo aerofotografico realizzato col drone ha consentito la perimetrazione delle colate detritiche mobilizzate sin nell'agosto del 2018 e la realizzazione di un modello digitale del terreno. Ma in generale l'utilizzo del drone è prezioso nello studio delle trasformazioni del territorio, di qualunque origine, come quelle legate all'attività di cava e ai sprofondamenti in superficie, come i cosiddetti anthropogenic sinkholes, provocati dal crollo delle cavità sotterranee, come in questo studio del Parco dell'Ampia Antica. Con il drone si possono realizzare suggestive vedute a volo d'uccello di paesaggi unici. Grazie. 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 Grazie.